La conversione di San Pietro e la conversione di San Paolo che sono i due elementi fondamentali della storia della Chiesa la conversione di San Paolo e la crocifissione San Pietro chiede di essere crocifisso a testa in giù perché non è degno di morire come il nostro Signore questo era un po' il concetto e qui si pensa che ci sia proprio anche un autoritratto di Michelangelo come del resto si pensa che San Paolo sia un autoritratto di Michelangelo che è questa, è la conversione di San Paolo c'è che cade l'amore